Il lavoro Marco, poi non ti chiedi se non so l'abbraccio Allora, mentre Anna Laura si prepara per la sua rubrica Saltiamo di palinfrasca e io ti leggo un messaggino arrivato al 366 70 52 110 Vai! Eccovi in diretta, siete unici, mi fate veraversamente ridere Mi fate versamente ridere Un abbraccio a tutti, un bacio a quel porcellino di Emiliano Ciao vostra Lila È la mia ragazza Ah sì, è la tua ragazza Solo lei, solo lei Ma non le dire Allora, ciao ragazzi, sono Dino Vi faccio tanti complimenti, per me l'amore è... Ah, quindi ha seguito i nostri temi Per me l'amore è destino, amo la stessa donna da 20 anni Bravo, bravo Come se fosse il primo giorno e la mia vita insieme a lei è stupenda Bravo, mi dispiace ovviamente per tua moglie che è muta Però siamo felici per... È muta sorda No, basta E si muove con difficoltà Basta muta, basta muta Va bene, siamo pronti per la rubrica allora Che dici? Molto bene E allora, cari signori, cari signori all'ascolto So che vi volete tenere in forma ma non avete tempo So che volete fare l'amore ma non avete tempo Bene, con la rubrica di Anna Laura potete fare l'amore e tenervi in forma Sì Perché la rubrica è Hot Fitness e lei è Anna Laura Ammazza A saperlo che avevo tutto questo tifo Bene, allora questa sera propongo Vai, è un abboggia È un abboggia Importante ragazzi, voglio il coro Allora, propongo una... non è più una posizione Diciamo che non è neanche comodissima Vi dovete attrezzare di un tapirulan Sul tapirulan mettiamo una velocità media Facciamo un 3.5, massimo 4 Dove l'uomo dietro rimane con le gambe aperte Aperte Praticamente la donna è quella che impiega un po' più di fatica in tutto ciò Perché con l'erezione dell'uomo, sperando che ci sia Beh, certo La donna cammina e mentre cammina ha il sedere che sporge un po' all'indietro E lei mentre cammina va avanti e indietro Quindi la penetrazione ce l'ha mentre cammina sul tapirulante Come ha studiato, hai visto come ha studiato? Ah, hai capito Cioè lei cammina sul tapirulante e fa avanti No, però, aspetta Sul tapirulante No, cammina insieme a lui Cioè non è che sta con bloccato coi piedi Nel senso non è che sta immobile Cioè lui cammina e penetra Sì Qua si brucia Allora, si brucia però è un po' più impegnativo per lei Perché lui comunque fa un po' più di forza sulle gambe Intorno alle 400 calorie E la performance, se tutto va bene, potrebbe durare anche 10 minuti Però se tutto va bene Madonna, guerriero 10 minuti pure la sigaretta se fuma Guerriero si è fatto anche la doccia perché la volta tapirulante è sudato Quello è Emiliano, quello è Emiliano Va bene, mi ci vuole un po' di più Allora Questa è un po' più impegnativa Ho usato un attrezzo proprio specifico della palestra Quindi rassodate le chiappe Sì Rassodate gli addominali E dovete avere un pisello alquanto lungo Bon bocca al lupo Quindi qui Marinelli è tagliato fuori È tagliato fuori Emiliano è borderline E guerriero vince la classifica quindi La voce di San Benedetto Fregnate Z è borderline, guerriero Ma siamo abbastanza chiara Cosa c'entra mia zia Abbastanza chiara In hot fitness La celletta mia Zoppa zoppa ma vai camminendo Eh vai camminendo Vabbè Non brucerà Non brucerà Ma vai camminendo Allora Facciamo un bel applauso ad Anna Laura e la sua rubrica hot fitness Mi raccomando più piano perché dopo mi emoziono